Quando parliamo di investimenti in tecnologie, nuove colonne laparoscopiche, si traduce poi in un tipo di intervento di alta qualità, con l'impatto più basso possibile sul paziente, potendo quindi garantire la qualità dell'intervento e nel dopo. Il fatto poi di essere attrattivi attraverso queste opportunità che vengono date, potete vedere tanti giovani che lavorano qui dentro, lo fanno con grandissima professionalità e danno proprio l'idea, la più forte che si può dare, di una sanità che oggi dà risposte di grande qualità ma sta già costruendo nello stesso tempo il futuro. Prima mi è stata data una testimonianza di una chirurga che ha lavorato qui, adesso in Francia, in uno dei centri più accreditati su questo tipo di chirurgia e ha detto che secondo me è molto meglio quello che si fa nelle marche. Tutti attestati di qualità che grazie a questo lavoro, agli investimenti importanti che vengono fatti nelle nuove tecnologie e permettono di mantenere quella vetta a livello nazionale che le marche hanno ormai da anni.